Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Apparecchiature dell'officina, ho anche riprovato a giocarci di recente, ma mi ha stufato, l'ho disinstallato subito. My Garage, senz'altro, è più grezzo, ma secondo me ha dei contenuti che Car Mechanic Simulator non ha, probabilmente non avrà mai, e vi voglio spiegare il motivo. Mi scuso prima di tutto per la voce, ma sono malato, quindi sono a casa, insomma, in malattia, e la voce è quella che è, però ci provo perché ci tenevo troppo a fare questo video. In sintesi, voi avete la vostra officina, voi accettate i lavori da questo telefono, tutto molto grezzo, ma i soldi vi permettono di, appunto, andare prima di tutto ad espandere l'officina spendendo 50.000, facendo diventare il garage doppio. Ma soprattutto vi consentono di andare a acquistare i pezzi di ricambio e, perché no, andare a personalizzare le auto. Adesso io vi faccio vedere qua a fianco, in questo edificio qui, c'è il magazzino dove possiamo andare a depositare i mezzi che non usiamo. Ci sono pezzi un po' ovunque che ho perso in giro. È un gioco, ve lo dico subito, estremamente punitivo, nel senso che se schiantate l'auto la rompete. Ma non fatevi ingannare, questo non è My Summer Car. Ne riprende alcune cose, ma soprattutto quello che reputo un gioco, questo è un gioco eccezionale, è la parte della meccanica. Ora, ha sponato questo. Vedete, c'è anche una moto. Una moto l'ho trovata semplicemente perché, vagando per il mondo, potete trovare degli oggetti collezionabili, che sono oggetti di arretamento, ma anche in discarica delle auto ben più distrutte di queste. E tra cui trovate anche una moto. La moto io l'ho comprata ed è là, devo andare a prenderla in qualche modo. E quindi me la ritrovo anche qua da sistemare. Ma, vabbè, in questo caso vedete che premendo I io vado a vedere lo stato di riparazione, cioè lo stato dell'auto, lo stato della vernice e vediamo anche lo stato del motore. Dopo qualche ora inizierete a farci, diciamo, l'occhio e vedere quali parti sono da sostituire. Potete vedere che l'auto può... adesso l'auto costa 8.300, è una coupé e sotto potete andare magari a vedere se c'è qualcosa di marcio. Vedete qua c'è un braccetto marcio, il braccio, la barra che stabilizza, marcia. C'è una parte inferiore qui che è marcia. Insomma, la potete comprare, sistemare e poi rivendere e ottenerla come vostra auto personale. Cosa che ho fatto io. Ma io, è una cosa molto bella che su Car Mechanic non c'è, io ho comprato un'auto che era incendentata. Quindi aveva il telaio storto, le barre del telaio storte, il cofano storto, il bagagliaio storto, tutto storto. Ho dovuto smontare. E una delle cose molto interessanti è che con il flessibile voi avete due possibilità. Andare a, primo, montare questo disco dorato e andate a limare, vedete, la ruggine. Con questo disco qui, invece, smontando questo e montando l'altro, potete andare a tagliare il telaio. Vedete che qui adesso ci darà delle parti... adesso devo aprirlo, però... Adesso ho rovinato volutamente l'auto, ma va bene. Vedete che ci darà... poi adesso non me le dà perché... sì, vedete, là me lo evidenzierà di verde. Sono le parti in cui potete... vedete che me lo evidenzia anche qui. Potete andare a disaldare le parti usando il flessibile. Quindi andate a staccare proprio tutto il telaio dell'auto e risaldate le parti giuste. Altra cosa, per saldare, appunto, c'è la macchinetta giusta. E adesso qua avevo sparso per terra un po' di roba perché quando la riparerete... La cosa molto bella è che lasciate le cose in giro. Vedete, è una cosa che Carme Canning non ha perché avete il magazzino. Quindi selezionate e vi dà già il pezzo in mano o il pezzo comunque equipaggiato. E in questo caso no, nel senso che voi premete con il tasto destro. Vedete che io prendo questo oggetto, lo appoggio, potrei farlo su un tavolo, sarei più comodo. Vedete, questa è la stecchetta per la saldatura. Quindi vado a saldare le varie parti. Cosa molto, molto, molto bella. Vedete, poi potete anche... hanno aggiunto un tool per muovere i mobili. Questo tool qui, quindi vi consente di muovere tutto. Io qua ho messo la zona di ricarica delle batterie, le zone delle gomme, le cose più grosse. Mentre invece qui c'è il cavalletto del motore. Qui invece gli strumenti, gli altri strumenti. Qui i pezzi di ricambio che io ho comprato ma poi non ho più utilizzato. O che ho smontato dall'auto che non è stato buono ma ho preferito cambiarli. La cosa molto bella è che lo differenzia tantissimo da Carme Canning. E forse è il punto più importante. Io ho ristrutturato quest'auto. L'ho pagata a 2.500 e ora costa 7.200. Non tantissimi, insomma. Influenza tanto anche il colore. Però vedete che non è ancora il massimo. Cioè si potrebbe fare di più. C'è sicuramente qualcosa ancora che non funziona. Che è guasto, devo ancora capire. Perché non ho cambiato tutte le parti. Mi sembra quelle buone le ho tenute. Però il motore è stato rifatto completamente. E rifacendolo ho deciso di cambiare due cose. Cambiare la distribuzione dell'energia. In pratica lo spinta aerogeno. Con un qualcosa di... Ad alte prestazioni. Una pompa della benzina ad alte prestazioni. E al carburatore, anziché applicargli sopra il filtro, quindi questo, col suo contenitore, ho deciso di montargli il turbo. Quindi vedete che la turbina, l'uscita, insomma, entra l'aria. I gas di scarico fanno girare la turbina. La turbina tira dentro più aria. La manda nel carburatore. E poi il carburatore butta l'aria nel motore. E qua da sotto, il collettore di scarico, buttano l'aria nel tubo di scarico, accelerando appunto la turbina. Il concetto di funzionamento del turbo. È una decisione veramente molto azzardata questa. Perché infatti l'auto è piccola, è leggerissima e soprattutto non è adatta ad essere turbo. Ma, calcolate questo, in Car Meccane Simulator voi fate la missione, la completate. La soddisfazione è minima, anche ristrutturare le auto è minima la soddisfazione. Quando invece vi mettete qui, l'accendete e funziona, la soddisfazione è eccezionale. Soprattutto pensate che una volta io avevo ristrutturato un'auto, ci avevo perso 5 ore, l'ho fatta. Sono andato a provarla, sono andato su per la... Allora, qua c'è la mappa classica, qui c'è il ponte. Il ponte una volta finiva in fondo, adesso hanno aggiunto una mappa nuova, tutto dall'altra parte. Quindi scendendo di qua si prende un ponte lunghissimo. Beh, sappiate che sono tornato indietro, non avevo fissato bene un tubo dei freni. Sono arrivato qui, non ha frenato l'auto, sono finito in mare. Ovviamente con un tasto potete spendendo 100 dollari mettere, diciamo trasportarli in officina. Ma il motore è andato, motore completamente nuovo. E pensate perché non avevo fissato una vite. In pratica poi ho iniziato a testare le auto. Infatti anche questa, quando l'ho montata, ho, vedete, messo il liquido dei freni e poi ho accelerato e frenato qui in zona e il liquido scendeva. Per poi accorgermi che appunto avevo un problemino perché il tubo di trasporto del liquido dei freni andava fissato anche qua sotto, oltre che alle 4 pinze, diciamo, dei freni. Non vi chiede di essere un esperto meccanico, ma di essere comunque appassionati a queste cose. Perché ci sono alla fine due cose che si usano, la chiave inglese e il cacciavite. Cioè alcune hanno delle immagini, diciamo, questa è una vite e questo è un bullone. Quindi chiave inglese, cacciavite. Potete settare svita o avvita e il pezzo ve lo sistema con una precisione comunque abbastanza tranquilla. Insomma non dovete essere precisi al millimetro come mai Summer Car. Ecco, una cosa invece vi chiederete perché ho rotto questo, perché io sono andato vagando per la map, perché dopo aver passato quasi 30 ore a montare auto e fare missioni per far soldi, sono andato a esplorare e ho trovato questa televisione qui. Poi ho trovato anche la moto, la moto l'ho comprata in discarica, ho provato a metterla qui, mi si è crepato subito questo e questo ovviamente per sostituirlo. Bisogna andare a prendere il leverino, prendere il vetro e andare a sostituirlo. Quindi in pratica probabilmente mi dà lo status di auto non proprio messa in formissima, perché manca questo, me lo pagano 4 dollari come rottame. Ora possiamo andare a prenderlo. Ora premendo I, vedete io vado a vedere NIV e l'auto è NIV, quindi non ci si può sbagliare. Qua sul catalogo potete mettere il tipo di motore, vabbè un 4 cilindri ma non mi interessa, NIV. E poi andiamo su Body, anzi no Windows, e qua mi dà il noto posteriore. Lo compro, 93 dollari, lo prendo e lo vado a posizionare fuori. E qua si è operato, vedete lo metto così, tecnicamente dovrebbe essere a posto. Non credo abbia fissaggi, infatti non lo potete più levare, vi serve appunto il leverino per toglierlo. Vediamo lo status. No, mi sembra uguale a Parima, probabilmente c'è altro da cambiare. Ma pensate, altra cosa, in Car Mechanic non vagate con la macchina, comunque c'è la prova su pista, ma è banalissima, fatta anche male, tra l'altro non hanno mai fatto nulla per migliorarla. Adesso vi farò vedere ad accenderla il rumore che fa, ma soprattutto calcolate che io sono andato in giro, ho esplorato un po' la mappa, è un'auto super potente, si è sporcata, quindi la laviamo. Guardate come cambia, cioè le condizioni sono veramente pessime perché sono andato anche sullo sterrato, insomma, quindi ovviamente non bisogna allontanarsi troppo se no il tubo non ci arriva, però in pratica adesso così l'abbiamo lavata. L'abbiamo lavata, devo controllare bene se ci sono i finestrini, mi sa che qua non c'è il finestrino dietro, manca, infatti qua c'è, vedete? La rimetto a posto, manca un finestrino dietro, quindi finestrino posteriore, destro, andiamo a vedere, posteriore, destro, ok, lo compriamo anche lui. Ok, adesso tecnicamente ci sono tutti, ma manca ancora qualcosa, boh, non lo so. Vi faccio vedere come si accende, in pratica si sale, invio come MySmart Car, si va ad accendere qua. La cosa bella è, vedete la spia qui dell'alternatore, se io adesso vado di là e stacco l'alternatore, quando accendo l'auto la spia resta accesa. Sentite che rumore fa il turbo. Questa macchina va da paura ma è leggerissima, quindi si imbarca, poi andrebbe guidato con un volante o con un pad, però pian piano la guidate comunque. Adesso vi faccio vedere. Ah, tra l'altro, l'ultima cosa che vi dico, quando ho montato il turbo mi sono reso conto di una cosa. Io andavo bene o male sapendo cosa facevo, ma sappiate che il turbo lo potete montare anche erroneamente, al contrario. Il gioco non ve lo dice, se voi montate il filtro, il porta filtro e il coperchio e non ci mettete il filtro all'interno, il motore gira male. Ma non ve lo dice. Poi ovvio, non sono milioni di pezzi, quindi non c'è da spaventarsi, però bene o male io potevo fissare tutto, avevo montato un carburatore, quello che vedete qui, doppio. E quindi praticamente avevo il carburatore doppio e il turbo montato leggermente diverso da così. Ma così non funzionava, perché non funzionava, cioè sarebbe stato, avrebbe fatto un rumoraccio o non sarebbe partito. Avevo dimenticato la cinghia della distribuzione una volta, quindi il motore girava, il motorino girava, ma non partiva. Cioè, è molto bello. Ovvio che se quest'auto la prendete, la provate, vi schiantate addosso a quel palo o andate solo in dietro, tranquillamente, a velocità moderata, insomma, piano, l'auto si bozza. E quindi dovete ripararla. Quindi bisogna fare attenzione, è molto punitivo, è il solso delle auto. Vabbè, allora, l'alternatore, sappiamo che è qui, io gli stacco la presa adesso. Ok, ho staccato. Tecnicamente adesso, accendendo l'auto, dovrebbe restare acceso una spia. O ho staccato qualcosa di diverso, non lo so. No, sapete che devo togliere proprio tutto il cavo. Eh, ma non lo posso fare. Eh sì, perché è ancora a contatto, vedete. Dovrei staccarlo del tutto. Beh, ma più semplicemente posso fare una cosa che non andrebbe mai fatta. Però in pratica stacco la cinghia. Perché lì è ancora in contatto. Adesso stacco la cinghia, adesso qualche problemino. Vediamo. Vedete? C'è la spia accesa. Ma contemporaneamente il motore non ha fredda perché non c'è l'acqua in circolo. E c'è un grande rischio. Poi avevo fatto un test più di un anno fa, quando avevo portato questo gioco per la prima volta, guardando se c'erano effettivamente problemi se toglievo l'olio. L'olio lo potete togliere, può anche mancare per un po', ma dopo un po' vi partono fuori i pistoni. Escono praticamente tutti arrugginiti, quindi è realistico. Hanno fatto un grandissimo lavoro, eh. E calcolate che è ancora abbastanza spoglio il gioco, ma ha un sacco di... Sono cinque auto alla fine, più una moto, da sistemare e di lavoro ve ne dà. Cioè calcolate che adesso voglio esplorare la mappa, prendere altre auto, sistemarle. Cioè è bellissimo come tipo di gioco. E basta. Questo è il mio pensiero riguardo a My Garage. È un gioco che consiglio assolutamente. Io da appassionato, quindi se avessi piaciuto tanto, Car Mechanic. Ma avete quello stesso sentore che avevo io, di gioco un po' così, incompleto, un po' semplice, un po' noioso a lungo termine. Questo è sicuramente il gioco che fa per voi. Dovete passare sopra magari un po' alla grafica così, però veramente è fatto bene. È migliorato tantissimo nel corso degli anni, quindi potete smontare ogni genere di cosa, eh. Potete cambiargli questi, potete cambiargli gli specchietti. Vedete i sedili dietro l'ho cambiato, andrebbero cambiati anche quelli davanti, andrebbero cambiati anche questi. Il meccanismo che alza i vetri, magari non c'è neanche il vetro, adesso non lo so. Potete cambiare il crepscotto, la strumentazione, dietro vabbè non c'è niente. Qui sporge qualcosa che potrebbe essere anche solo una deformazione dovuta a qualcosa che ho fatto io. Sotto c'è il fissaggio del freno a mano, la marmitta, tutto il sistema di sospensione. Calcolate che, vi dico anche quest'altra cosa, quest'auto qui l'avevo configurata male, nel senso che gli mancava questo braccetto qua, questo, e quindi io sono uscito nel piazzale, ho fatto una curva e curvava pianissimo. Allora a un certo punto ho trovato il modo di tenerla strazzata mentre scendevo, aveva solo una ruota girata e l'altra era dritta. Quindi ho detto, qua c'è qualcosa che non va, sono andato sotto, mi sono accorto di cosa mancava, l'ho ordinato, l'ho comprato e l'ho montato. Cioè ci sono tante cose, tantissime cose da imparare, potete ovviamente anche andare a montare, smontare le gomme come volete, il negozio là dietro vende le gomme, non questo che le auto usate, ma l'auto quello dietro, bicroma là dietro, bicroma anche i pezzi, quello là, e vi vende anche i carretti dove potete caricare le auto o le moto per trasportarle a casa. Allora la strada è tortuosissima, perché se guardate la mappa è veramente tosta arrivare alla junkyard. Ma la mappa va avanti anche di qua, io potete scegliere se giocare in survival, quindi con la fame e la sete e il sonno, inutile, secondo me al momento, e poi giocare con la mappa nuova, e la mappa nuova è tutta da esplorare. Trovate oggetti come questo, appunto come vi dicevo, che sono quelli collezionabili. Basta, questa è la mia opinione finale su My Garage, consigliato a mille, secondo me straccia. Car Mechanic non dal punto di vista grafico, non dal punto di vista tecnico, contenuti secondo me sì, perché comunque è bello, è vero, vi fate tutti i test in Car Mechanic, qui siamo in una epoca un po' più vecchia, con meno test, molta meno elettronica. Però alla fine che cosa vuol dire? Cliccate su un test, lo fate, vedete il risultato, vi dà i pezzi rotti, e poi inizia la trafila, dismonta e dismonta. Qua vi organizzate, io ho fatto degli screen dove io avevo l'auto praticamente distrutta qua davanti, sul caro elevatore qua, e pezzi sparsi ovunque, ho dovuto passare un quarto d'ora a buttare via tutti i pezzi, perché io li buttavo a terra così sapevo cosa avevo smontato, cos'era da cambiare, quando lo cambiavo lo mettevo sempre a terra e buttavo via l'altro nel cassonetto. Quindi, cioè, gioco assolutamente di valore, calcolando che ancora in early access, quindi aggiungeranno tante altre cose, si spera. Ragazzi, io attendo impaziente un vostro parere qua sotto, scusate ancora per la voce, ma credo di aver finito la mia autonomia nel parlare. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima e ciao ciao! Grazie a tutti!